Siamo sempre qui a Villata all'aria aperta dove ci sono questo cicalio delle cicale che è molto bello e in più abbiamo la possibilità di allenarci all'ombra perché non c'è il sole e quindi non c'è bisogno anche dell'aria condizionata. Ecco adesso potremo fare questo esercizio in svariati modi tra cui ne stavo provando uno adesso a corpo libero per il dosso dove possiamo incassare i piedi qui sopra prima uno e poi l'altro reggendoci con le braccia e possiamo spingendo ecco i gomiti in questo modo tirarci su per fare delle trazioni come se stessimo lavorando ecco il dorsale quindi è come se fosse un rematore a corpo libero ecco quando andiamo sopra respiriamo e quando scendiamo e spingendo. Questo è per quanto riguarda l'esercizio del dorso ma con lo stesso attrezzo possiamo anche lavorare i tricipiti in questo modo come se fossero delle parallele scendiamo possiamo lavorare sia per quanto riguarda i tricipiti scendendo così dritti oppure inclinando leggermente il pezzo in avanti per lavorare il petto. E questo è uno dei tanti esercizi che possiamo svolgere con semplici attrezzi e acqua pulita.